Con Stefano io mi sono presa un po' l'impegno di fargli delle domande, quindi questo sarà un po' il mio ruolo per le prime domande, perché poi l'idea sarebbe di dialogare. Abbiamo pensato di tenerci nel nostro dialogo circa 40 minuti e poi invece lasciare lo spazio alle vostre domande, perché la domanda di fondo che credo possa essere utile anche che ci poniamo alla fine di questi tre giorni, di cui io mi sento molto di ringraziare per il fatto che ci sia stata, oltre che per i contenuti che sono stati proposti, è anche il che cosa possiamo fare. Credo che sia importante interrogarci su che cosa accade, perché le cose accadono, ma poi anche farsi la domanda del come cambiare, che cosa fare. Questa sarà la terza domanda che anticipo, porrò a Stefano, ma ci dedichiamo una prima parte all'analisi. Dico due cose del perché ho accettato di questo dialogo, sono anche un po' emozionata, perché la mia esperienza è legata a un'esperienza che si chiama Bilanci di Giustizia, che è una campagna che ha ormai quasi 30 anni e che si, quindi a partire da metà degli anni 90, ha cominciato a chiedersi quando l'economia uccide, come cambiare. Anzi, è partito dallo slogan, quando l'economia uccide bisogna cambiare, quindi lo sguardo è proprio quello dell'oltre economia, dell'economia alternativa, del guardare con uno spirito critico l'economia capitalista, chiedersi quali sono le conseguenze negative di quel sistema e provare a cambiare, a partire dal bilancio familiare, per questo la parola Bilanci di Giustizia. E quello che mi colpisce, avendo letto e ascoltato un po' le cose che porta Stefano, è che quello che unisce l'esperienza del movimento che qui oggi mi sento di rappresentare e l'esperienza del giornalista Stefano è il fatto di essersi partiti con delle domande. Quindi quando nel metà degli anni 90 ci si è posti la domanda perché il sistema uccide e che cosa possiamo fare noi, una delle domande da cui sono partite queste famiglie, questa rete di famiglie, per provare a cambiare è stato proprio ci chiediamo che cosa consumiamo, cosa mangiamo, come ci vestiamo, come ci muoviamo, a partire dall'oggetto proprio, ma questo pacchetto di caffè da dove viene, chi l'ha prodotto, in che modo l'ha prodotto, dove va a finire il pacchetto che lo contiene, quindi a partire non da delle risposte ma a partire dalle domande. Mi pare che anche la tua ricerca da giornalista, quindi da uno che va e vuole capire, quindi che si interroga ma poi va sul posto e cerca di capire è partito da una domanda, dalla domanda della salsiccia. Ecco, ti chiedo di raccontare l'aneddoto e poi la prima questione è quali sono quindi, qual è la tesi di fondo e quali sono le argomentazioni rispetto alla tua critica al sistema agroalimentare e alle conseguenze per il cambiamento climatico. Sì, grazie Antonella, sono felice di essere qua. Vi ho provato varie volte a venire a questo festival e finalmente ci siamo riusciti. parlando con Francesca, con Stefano, sono contento che finalmente ci riusciamo. Tu mi stai chiedendo la domanda al fondo del libro Il Signore del Cibo, di questo lungo viaggio che io ho fatto alcuni anni fa attraverso il pianeta, cercando di ricostruire la filiera di alcuni prodotti alimentari, in particolare la carne di maiale, la soia, il pomodoro concentrato e il tono. Ed è una domanda che effettivamente mi sono posto guardando proprio il mio piatto, guardando il supermercato sotto casa mia. Ho detto ma da dove viene questa salsiccia, da dove viene questo pomodoro? E in effetti noi non lo sappiamo. E quindi ho provato a fare una cosa che è ricostruire questa filiera all'inverso, e cioè dallo scaffale andando al ritroso tutto indietro fino ai campi dove vengono coltivati i prodotti, fino ai mari dove sono catturati i pesci, fino ai grandi allevamenti intensivi dove vengono cresciuti gli animali. Ed è successa una cosa stranissima, nel senso che io sapevo che avrei viaggiato, però non mi ero dato limiti al mio viaggio, e mi sono ritrovato in dei luoghi della terra che neanche conoscevo, cioè nell'estrema ovest della Cina, lo Xinjiang, dove producono i pomodori che poi arrivano sotto forma di concentrato in Italia, vengono ritrasformati e riesportati. Nei grandi allevamenti intensivi sempre in Cina e negli Stati Uniti e anche in Europa, nelle grandi distese del Sud America dove viene prodotta la soia, che ancora una volta viene utilizzata nella zootecnia. Insomma, un grande viaggio globale intorno al mondo, a partire dalla salsiccia di qui sopra, che dimostra sostanzialmente che le filiere agroalimentari ormai sono super globalizzate, sono caratterizzate da viaggi spesso totalmente irrazionali, per cui appunto il pomodoro attraversa il pianeta ed arriva in un posto dove il pomodoro si produce, ma ha un costo maggiore e quindi si compra quello che viene fatto a 20.000 km di distanza e che soprattutto sono controllate da grandi gruppi, ognuna di queste filiere è controllata da grandi gruppi, che sostanzialmente è grado di fare delle grandi economie di scala e di produrre un cibo ad un costo che è sempre più basso, ma che non tiene conto di quelle che sono le esternalità, e cioè i costi ambientali, e qui veniamo anche al tema dei cambiamenti climatici, i costi ambientali di un certo tipo di produzione che non vengono introiettati nel prezzo che io o Antonella o chiunque di voi paghiamo quando andiamo al supermercato, ma che diventano delle esternalità negativi dei costi sociali o ambientali che ricadono sulla comunità intera, sugli ecosistemi e via dicendo. Quello che dico sempre, appunto questo libro è uscito qualche anno fa, io per ricostruire la filiera di questi quattro prodotti, quindi il tonno, il pomodoro concentrato, la carne di maiale, la soia, ho dovuto viaggiare per 200 giorni, ho viaggiato in tutto il mondo e l'ho fatto grazie al sostegno di una fondazione che credeva in questo progetto, e ho fatto anche dei viaggi molto belli, molto interessanti, che mi hanno insegnato un sacco di cose, ma io penso che forse non bisognerebbe viaggiare per conoscere l'origine del cibo o i meccanismi di produzione del cibo che noi consumiamo. Quelle informazioni che io ho dovuto ricavare viaggiando, incontrando le persone, intervistandole e studiando, dovrebbero essere semplicemente alla portata di tutti. Ogni singolo cittadino consumatore dovrebbe sapere da dove viene il cibo, dovrebbe fare delle scelte che non dovrebbero essere dettate soltanto dal prezzo, perché poi questo è quello che noi vediamo quando andiamo a comprare il cibo, il prezzo, ma da come viene prodotto, dove, quali tipo di processi industriali il prodotto ha subito, quanto consumo di acqua, quanta produzione di emissioni climalteranti, di CO2, ha avuto questo prodotto. Ecco, tutte queste informazioni non ci vengono date al momento. ma penso che sia necessario per fare un consumo consapevole rendere più trasparenti le filiere, quindi dare queste informazioni in modo che ognuno di noi può avere un ruolo maggiore nei meccanismi anche di produzione. E poi, però, come nell'esperienza dei bilanci di giustizia, ecco, i consumatori dell'esperienza dei bilanci di giustizia si sono proprio posti questa questione, si sono detti, ma perché questo prodotto costa così poco? E perché invece quell'altro che è biologico e locale costa così tanto? E la riflessione è stata proprio, no, non è questo che costa tanto, è quello che costa troppo poco, o perché quel costo lì non include i costi, appunto, esterni e tutto l'impatto che ha. Che però cambia, cioè, è una prospettiva non facile da comunicare. Ecco, mi pare che uno degli elementi importanti del tuo lavoro di giornalista, di divulgatore, sia proprio quello di far arrivare queste riflessioni che magari venivano fatte in un gruppo di piccoli, un piccolo gruppo di attivisti molto convinti, però invece farlo arrivare ad un pubblico molto più ampio e credo che questa sia veramente un'urgenza anche oggi. Terra bruciata. Allora, nel frattempo, diciamo, sono passati quasi 30 anni, la consapevolezza rispetto al problema ambientale a partire, ma non solo, dal cibo che mangiamo è aumentata molto, ormai nessuno, o quasi nessuno, nega più il cambiamento climatico, e però ci sono due dimensioni. Da un lato c'è chi dice dobbiamo fare tutto il possibile per mitigare, dall'altro c'è chi si organizza per adattarsi. Le due dimensioni, un po', che in parte vanno nella stessa direzione, in parte contrastano. Terra bruciata. Terra bruciata è appunto il libro che ho pubblicato alla fine dell'anno scorso, è che è stato per me una scoperta. O meglio, tutti i lavori che io faccio cerco di fare delle scoperte, nel senso che formulo delle ipotesi, e poi vado a vedere sul terreno se queste ipotesi corrispondono alla realtà, e spesso non è così, nel senso che spesso la realtà è diversa da come tutte le immagini, ma è diversa in senso che è meno netta. Cioè tutte immagini delle cose molto definite, poi la realtà è più grigia che nera. E quindi io nel 2019 ho pensato, girando per l'Italia, a me capita molto di girare, ho visto che effettivamente mi sembrava che gli effetti dei cambiamenti climatici in Italia fossero più vistosi di quanto venisse raccontato da noi stessi giornalisti. Cioè che tendiamo a dire che c'è il cambiamento climatico ma è qualcosa che riguarda le generazioni future, eccetera. E allora ho cominciato un viaggio attraverso l'Italia, sull'arco alpino, poi giù nella pianura padana, lungo il Po, a Venezia, in Trentino, sono venuto un paio di volte, insomma ho girato tutta l'Italia, in Sicilia, in Sardegna, sono stato qualche mese in giro per quelli che mi sembravano i luoghi più interessanti o gli argomenti più interessanti da trattare e mi è successa una cosa molto particolare, nel senso che forse per la prima volta nel mio lavoro giornalistico la realtà si è dimostrata più radicale, più netta, più drammatica anche dell'ipotesi di partenza, di come me la immaginavo. E quindi la tesi che poi ho sviluppato nel libro è più radicale dell'ipotesi che avevo formulato, perché ho visto, girando per i territori, che l'Italia è uno dei paesi europei, forse il paese europeo più colpito dagli effetti del cambiamento climatico, in termini di eventi estremi, atmosferici, che ormai avvengono con una frequenza straordinaria, di aumento di temperature, di aumento degli olii dei mari, di incredibile aumento di specie aliene che colpiscono le nostre produzioni agricole e non solo. E quindi l'Italia è il più colpito, è il paese più colpito, però paradossalmente è il paese dove in Europa si parla di meno di questo tema. Un po' per responsabilità anche dei media, un po' per responsabilità della politica che non è in grado di elaborare un discorso su questa tematica. Quindi io ho raccontato questi viaggi perché ho cercato di raccontare il cambiamento climatico a partire dalle persone che lo vivono. Cioè a partire da coloro i quali stanno sui territori e quindi percepiscono come stanno cambiando molto repentinamente i territori. Gli agricoltori, gli allevatori, i pastori, gli apicoltori, gli operatori del turismo, insomma, le persone che stanno sul territorio e che vedono come stanno succedendo una serie di cose molto gravi e che noi tendiamo a raccontare in modo frammentario per tutta una serie di ragioni. Secondo me c'è un meccanismo di rimozione, di sublimazione di un problema che effettivamente forse è troppo grosso per essere affrontato direttamente. E quello che ho cercato di fare poi nel libro è cercare di dare un volto e una diciamo una concretezza nella descrizione dei territori delle persone perché mi sono detto com'è che giornalisticamente il cambiamento climatico è la grande storia dei nostri tempi in Italia ma anche altrove c'è qualcosa che sta accadendo ma non riesce a bucare lo schermo e allora mi sono risposto che questo non avviene perché spesso è presentato come una sfilza di dati se ci pensate si dice la temperatura globale è aumentata di 1,2 gradi centigradi dall'epoca preindustriale tu dici vabbè in Italia è aumentata di 2,2 in realtà che è una temperatura pure molto elevata però non arriva oppure il livello del mare si è alzato di 20 centimetri dal 1800 quando tu ha questi dati che sono freddi metti delle persone gli dai una concretezza per cui ci sono le persone che vivono sul territorio e che vedono queste cose e te lo descrivono che vedono che non riescono più a produrre i pomodori o le arance in Sicilia iniziano a produrre i mangi oppure che vedono ridursi del 50% come è successo quest'estate la produzione di pesche perché c'è stata una gelata ad aprile quindi fine aprile inizio maggio e quindi ha distrutto tutta la produzione di pesche in Emilia Romagna e di pere anche quindi come vedete questa cosa impatta sulle vie delle persone forse diciamo è più facile che arrivi il messaggio allora ci racconti un paio di queste storie sì io diciamo le storie che più mi hanno ci sono varie storie io ho viaggiato diversi mesi tra l'altro è stata una cosa abbastanza strana impressionante perché dovunque andavo finivo in mezzo a eventi estremi sembrava che io portassi diciamo era il messaggero del cambiamento climatico e della sfiga sostanzialmente e vi racconto un aneddoto che è sintomatico io ovviamente tu fai un libro sul cambiamento climatico in Italia metti in campo una missione a Venezia perché come non puoi non parlare di Venezia che è il simbolo globale di questa cosa e allora io avevo organizzato con un dovuto anticipo una missione di 5-6 giorni una settimana a Venezia in cui avrei incontrato gli esperti del Centro Mare gli esperti del CNR più vari abitanti insomma avevo messo in piedi una serie di incontri organizzandolo e mettendo in conto di arrivare a Venezia il 12 novembre del 2019 e quindi io arrivo quel giorno e la mattina c'è un po' di acqua alta un po' tanta però ancora ragionevole vado a vedere al Centro Mare parlo con loro mi faccio spiegare loro mi dicono ma questa sera ci aspettiamo qualcosa di un po' più grande e lì è venuta l'apocalisse è venuta la seconda acqua alta più grande più alta della storia di Venezia quella appunto del 12 novembre di anni fa 187 cm è una cosa mai vista soprattutto quattro acqua alte di file sono stato lì una settimana sostanzialmente a nuotare tra le calli di Venezia e a vedere in presa diretta quello che voleva dire come la città reagiva a questa cosa o cercava di reagire a questa cosa salvo poi doverci tornare in tempi di pace diciamo a dicembre poi ci sono tornato per parlare con le persone che non ero riuscita a incontrare perché alcune persone ovviamente erano impossibili da incontrare in quel frangente dopodiché vado in Sardegna a vedere un giardino fenologico una cosa interessante di come una stazione arborea che misura il cambiamento climatico e mentre vado lì mi esonda di fronte un fiume con la macchina poi vado nel bellumese a settembre quindi in tempi tipo così per vedere i territori colpiti dalla tempesta maia inizia a nevicare per cui adesso i miei amici mi dicono guarda quando devi venire le nostre parti diccelo in anticipo che ce ne andiamo però a parte questo vai via domani mattina presto esatto parto non vi preoccupate forse anche stasera vado via non c'è problema no ma a parte gli scherzi io quindi ho visto effettivamente mentre ricercavo accadevano le cose prima cosa seconda ho visto tutta una serie di persone che racconto nel libro che sono quelle che io chiamo delle sentinelle ambientali cioè delle persone che sono sui territori e che vedono e restituiscono sicuramente forse ce ne sono tantissime in realtà quello che mi è rimasto molto colpito è quello che io metto all'inizio del libro che è un signore che vive che fa agricoltura a 1800 metri in Valle d'Aosta a Cogne anzi in una frazione di Cogne che sta ancora più alta di Cogne che si chiama G. Milano è un signore che si chiama Giorgio Helter e fa una e fa agricoltura biologica super biologica anche perché lì c'è solo lui che fa agricoltura e lui oltre a raccontarmi come effettivamente stanno cambiando le condizioni di produzione perché fa più caldo perché certe cose non riesce più a fare la cosa impressionante è che lui ha questi terreni diciamo in declivio e di fronte a sé con una terrazza meravigliosa ha il ghiacciaio della tribolazione del gran paradiso e quindi lui vede lui vive lì ormai da 50 anni vive lì da quando è nato sostanzialmente si è spostato a un certo punto a Torino ma poi è tornato e quindi lui vede sostanzialmente ritirarsi anno per anno di quel ghiacciaio di fronte ai suoi occhi è una specie di è come se lui ci fosse un palco sul cambiamento climatico che avviene e quindi ho passato una giornata insieme a lui che mi raccontava questa cosa e la cosa incredibile di questa persona è che lui è un agricoltore di montagna quindi è una persona assolutamente scostante diciamo caratterialmente è un montanaro e ha scelto poiché vive questa cosa giorno per giorno di fronte a sé ha scelto insieme ad altri di fare una causa all'Unione Europea perché l'Unione Europea non fa abbastanza contro i cambiamenti climatici ha scelto la ribalta diciamo perché poi ovviamente ha fatto causa e sono arrivati giornalisti sono arrivati gli avvocati insomma si è messo in mezzo a queste cose e quando dici ma tu quando io appunto ci ho passato una giornata insieme dove un po' comunque riesci anche a sciogliere a rompere il ghiaccio gli ho detto ma Giorgio ma com'è che te non mi pare il tuo carattere questo e lui mi ha detto guarda io me ne stavo tranquillo qui a fare agricoltura però questa cosa è talmente grande è talmente gigante io ho quattro figlie e voglio che appunto venga fatta qualcosa tempestivamente siccome io la sto vedendo penso che mi devo spendere in prima persona e tutte le persone che ho incontrato sui territori più o meno dicono la stessa cosa stanno succedendo delle cose grandi che non sono raccontate o che sono raccontate poche dobbiamo tutti spenderci in prima persona affinché questa cosa avvenga ho raccolto una specie di grido corale che però non è un grido di disperazione è un grido di azione e questo mi ha molto colpito e mi ha anche rincuorato ci sono delle persone che sui territori stanno facendo delle cose che hanno difficoltà a mettersi al sistema che è un po' la difficoltà tutta italiana che non sai mai cosa accade nel territorio accanto al tuo ma che però stanno facendo quello che manca è un raccordo a livello politico a livello centrale a livello di strategia nazionale quello non c'è perché a livello nei grandi ministeri a Roma questo tema è considerato un tema un non tema anche nel piano nazionale di ripresa e resilienza che pure parla di resilienza il tema dell'adattamento dei nostri territori che sono quelli più colpiti in Europa dagli effetti dei cambiamenti climatici di fatto è assente si parla tanto di transizione ecologica di di transizione energetica di mitigazione quello sì di decarbonizzazione che è un tema importante tu dicevi prima la mitigazione dell'adattamento non si parla per niente di adattamento allora io dico la mitigazione è importantissima però è un processo globale rispetto al quale noi in Italia essendo 60 milioni di abitanti in un paese ormai non più granché industrializzato possiamo avere un ruolo molto piccolo l'adattamento è un'urgenza che che invece è tutta nostra e sui quali bisognerebbe investire moltissime risorse ma non fa parte del dibattito pubblico cioè i nostri territori franano sotto l'effetto del cambiamento climatico i nostri campi coltivati si inaridiscono le produzioni appunto agricole si assottigliano ma non è un tema è come se ci dicessi se noi proviamo a ragionare sui i danni e a mitigarli cioè ad adattarci questo ci farebbe anche interrogare sul perché accadono forse queste cose magari partiamo da che cosa fare per cambiare per vedere le due cose poi sono interlacciate perché ovviamente io dico sempre il cambiamento climatico come peraltro la crisi sanitaria che abbiamo attraversato e che tuttora attraversiamo uno la può leggere come una un evento drammatico oppure come un'opportunità per riflettere su quelli che sono le gli errori del nostro modello di sviluppo allora tu puoi dire un certo modello di sviluppo energivoro estrattivista ha prodotto una produce ha prodotto la crisi sanitaria del virus del SARS-CoV-2 perché appunto la deforestazione ha avvicinato virus che una volta erano relegati in luoghi selvatici a luoghi abitati degli esseri umani e quello stesso modello ha prodotto emissioni e prodotto cambiamento climatico quindi forse la natura ci sta dicendo vi siete spinti troppo in là bisognerebbe rivedere questo modello a livello globale a livello nostro perché l'Italia è un paese particolarmente colpito dai cambiamenti climatici è quello che gli scienziati chiamano un hot spot climatico un po' perché è al centro del Mediterraneo quindi abbiamo una posizione geografica per cui il mar Mediterraneo si sta scaldando più rapidamente degli oceani libera più energia dell'atmosfera ci sono questi eventi estremi a cui noi da bambini non eravamo abituati sostanzialmente trombe d'aria quando piove la grandine quando cade la grandine con chicchi di due centimetri è una cosa nuova però la posizione geografica è quella non è che possiamo spostare il nostro paese altrove poi l'Italia ha una morfologia molto varia ma anche molto complicata è un paese fatto di colline di montagne che quindi tendono a franare quando ci sono questi eventi e poi c'è un terzo elemento che invece è tutto antropico nel senso che nel nostro paese è quello dove si è consumato più suolo dove si costruisce si cementifica si asfalta si impermeabilizza impermeabilizzano scusate i territori e quindi li si rende più fragili l'Italia si consumano due metri quadri al secondo secondo i dati dell'ISPRA ecco questo terzo punto ci dovrebbe interpellare dire vabbè noi abbiamo portato avanti un modello di sviluppo urbanistico ed infrastrutturale e via dicendo tarato sullo scenario climatico degli anni del boom economico ma quel clima lì non c'è più è cambiato non c'è più il clima mediterraneo per intenderci adesso noi abbiamo delle estati scaldissime degli eventi estremi continui e quindi anche le nostre infrastrutture non sono e i nostri territori non rispondono più a quel clima devono essere cambiati e quindi deve essere cambiato il modello di gestione del territorio avendo una maggiore cura e facendo in modo che i territori siano come si dice più resilienti quello dovrebbe essere lo scarto però per fare una cosa del genere ci vogliono degli investimenti ingenti ci vogliono delle risorse delle intelligenze dei soldi banalmente che devono essere spesi per rendere i territori più adattati nel PNRR c'è qualcosa ma c'è molto poco su queste cose c'è qualcosa sul dissesto idrogeologico in effetti ma non c'è un'allocazione di fondi che è commisurata all'enorme urgenza che abbiamo di fronte anzi se proprio dobbiamo dirlo qui in Trentino il PNRR verrà usato per fare una galleria che passa sotto questa montagna per fare una circonvalazione ferroviaria quindi se proprio siamo esattamente nella direzione opposta a quello che stai dicendo non solo non si spendono le risorse per fare quello che si dovrebbe ma si spendono quelle risorse per fare esattamente l'opposto che si dovrebbe allora sulla pandemia così hai detto delle cose poi magari lo approfondiamo però passerei alla terza alla questione finale perché tu già all'inizio delle tue ricerche poni la domanda perché preferiamo non sapere e mi sembra che anche qui rispetto al tema del disastro Italia sul cambiamento climatico torna la domanda adesso noi per dire VAIA per noi è stato sicuramente l'evento più impattante anche dal punto di vista visivo tant'è che tra l'altro è così visibile tutt'oggi che ogni volta che 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 commisurate all'enormità della però tutto sommato a me verrebbe da dire che se facciamo un sondaggio adesso sicuramente non qui perché qui siamo tutti molto consapevoli ma chiedendo ma c'è stato un un evento drammatico dal punto di vista del del clima in Trentino non so quanti se lo ricordano perché come dicevi abbiamo un po' la tendenza a a dimenticare rimuovere allora adesso ti faccio questa domanda capisco che non c'è una risposta e poi su questo chiederei anche di è una domanda che pongo a tutti che ci poniamo ed è duplice da un lato perché preferiamo non sapere e dall'altro che cosa ci può far passare dal momento in cui sappiamo dalla depressione all'azione che mi pare è l'esperienza che tu hai visto sì io appunto mi sono interrogato molto sulla rimozione che poi mi riguardava anche a me perché poi mi sono accorto andando avanti nelle mie viaggi nelle mie ricerche che mi ricordavo delle cose che però classificavo diversamente e a me fa sempre impressione il fatto che nell'estate del 2003 c'è stata una grande ondata di calore a cui ormai noi siamo quasi abituati però all'epoca era abbastanza eccezionale e in Europa ci sono stati 70.000 morti per quell'ondata di calore 70.000 sono i morti di una guerra sostanzialmente 70.000 ma questa cosa non fa in Italia ce ne sono stati tra i 15 e i 20.000 adesso i dati precisi non si hanno perché ovviamente non è che muori di caldo però muori di patologie respiratorie attacchi cardiaci determinati da quelle condizioni lì però c'è stato un aumento rispetto a tutta la media degli anni precedenti di quei decessi lì questa cosa qui non fa parte del nostro immaginario collettivo non c'è nessuno se la ricorda cioè ci sono stati 15.000 morti in più forse 20 ma nessuno se la ricorda mentre tutti noi ci ricorderemo negli anni a venire che c'è stata la pandemia e il covid e i morti di covid quindi mi sono detto ma perché questa cosa qui non non c'è nel nostro sentire comune e mi sono risposto da una parte perché il problema è visto come un problema talmente sovrastante che lo tendiamo a cancellare cioè tu dici tu che puoi fare contro la temperatura che aumenta il cambiamento climatico è talmente grande che non posso fare nulla e quindi lo ignoro questo problema e penso ad altro e conduco la mia vita come se come se non ci fosse e dall'altra mi sono risposto che è un che è un processo troppo graduale cioè o meglio molto più graduale rispetto per esempio alla crisi del covid no e noi come esseri umani interveniamo cioè sublimiamo cancelliamo la crisi finché questa crisi non ci arriva addosso un po' come la metafora della la rana la metafora della rana nell'acqua è una metafora che funziona perfettamente no la rana viene messa nell'acqua se tu butti una rana nell'acqua bollente la rana salta e se ne va se tu metti la rana in un'acqua fredda e accendi il fornello la rana sente l'acqua si intiepidisce e però ha ancora suo agio però si intiepidisce gradualmente alla fine la rana quando l'acqua è troppo calda ormai non ha più le forze per saltare fuori e un po' questa cosa ci rimanda a quello che avviene con il cambiamento climatico e anche al parallelismo che diciamo prima fra la crisi covid e la crisi del surriscaldamento globale perché da una parte hanno delle cause che sono comuni che sono quelle diciamo prima dall'altra c'è una differenza profonda che sta nel fatto che la crisi sanitaria è una crisi che io definisco non trasformativa nel senso che sicuramente ha prodotto dei morti ha prodotto dei traumi ha prodotto dei drammi però nel momento in cui si supera se questa campagna vaccinale funziona adesso lo vedremo nei prossimi mesi è una crisi che ti può facilmente tornare allo status quo ante cioè alla situazione precedente non dovrebbe però diciamo noi potremmo potremmo essere una parentesi il cambiamento climatico è un evento che trasforma gli ecosistemi e che è una pandemia lenta ma molto più drammatica nel senso che una volta che si superano dei limiti è sempre più difficile tornare indietro e quindi imporrebbe diciamo un'azione di prevenzione molto più vistosa rispetto a quella del virus che pure se ci fosse stata sarebbe stato meglio se noi avessimo avuto un piano pandemico probabilmente avremmo avuto meno danni dalla crisi però io credo che questa rimozione che ci riguarda tutti è un po' determinata da queste due cose la paura di raffrontare qualcosa che è troppo grande rispetto al quale le soluzioni sono complicate e la gradualità di qualcosa per cui finché non mi arriva addosso il problema lo ignoro devo dire che l'aumento degli eventi estremi negli ultimi anni forse sto un po' cambiando questa cosa perché se dici sta aumentando la temperatura media come è aumentata in Italia i 2 gradi e 2 rispetto al periodo preindustriale è una cosa che vabbè quando inizi a vedere che ti cascano gli alberi dove vivi che se fai l'agricoltore vengono distrutte le tue produzioni che c'è meno acqua insomma quando impatta sulla tua vita forse effettivamente un po' il dato sta cambiando che fare che fare è la grande domanda allora io sono sempre dell'idea che bisogna presentare questa cosa non come con un'arrativa apocalittica per cui non si può fare nulla e quindi in genere quella reazione per cui non sapendo che fare non faccio nulla e tanto devo morire a brustolito speriamo che non riguardi me ma le generazioni che vengono invece io penso che questa crisi qui deve essere raccontata per quello che è e qui noi abbiamo una grossa responsabilità come giornalisti perché non la raccontiamo per quello che è noi parliamo sempre di maltempo sui giornali leggete ci sono sempre gli eventi di maltempo allora il maltempo può essere una come dire una raffigurazione però le cause sono altre non vengono mai raccontate le cause e dovremmo come dire come dicevo prima prendere questa cosa ragionarsi ragionarci per cogliere per trasformare in un'opportunità per dire questa questa grande crisi ci richiede di trasformare radicalmente il nostro la nostra società il nostro modello di sviluppo e quindi trasformare le nostre città trasformare il modo in cui noi produciamo l'energia il modo in cui la consumiamo anche l'energia trasformare il modo in cui noi produciamo il cibo in cui lo consumiamo trasformare il modo in cui ricicliamo o produciamo rifiuti insomma questa cosa qui ci sta dicendo che noi non possiamo portare avanti quel modello di sviluppo che andava bene prima o meglio non andava bene ma non produceva questi cataclismi e ripensare tutto il nostro vivere il nostro vivere insieme a partire da a partire dai comportamenti quotidiani devo dire che i comportamenti quotidiani hanno un effetto ne parlavamo anche prima con Antonella hanno un effetto un effetto farfalla tu dicevi bene culturale nel senso che si diffonde la consapevolezza dopo di che io penso che i grandi cambiamenti devono essere veicolati dalla politica perché il singolo io l'altro giorno parlavo l'altro ieri con Gaël Giraud non so se qualcuno di voi lo conosce è un importante studioso francese che è diventato gesuita e che di fatto lui dice di no ma tutti dicono che è il ghostwriter della laudatosi di Papa Francesco lui dice se chiunque di noi vivesse come un francescano cioè riducesse la sua impronta ecologica quindi diventasse vegetariano si muovesse solo in bicicletta non avesse elettrodomestici comunque può ridurre le emissioni possono essere ridotte del 25% e sicuramente diciamo nessuno di noi aspira a vivere solo come un francescano quindi lui dice lui dice i grandi cambiamenti devono essere veicolari della politica e ci deve essere un'enorme transizione verso un nuovo modello di sviluppo e questo lo penso anch'io dopodiché credo nell'azione individuale che però non deve essere alibi per un non intervento dei grandi attori quindi della grande industria o della politica perché sennò diventa come diciamo prima la pubblicità di Eni che dice Eni più Giulia o Eni più Paolo è meglio di Eni tutti voi l'avete vista sicuramente in cui la grande azienda di produzione di estrazione di combustibili fossili poi si rifà la coscienza perché pubblicizza quello che fa i vestiti con il materiale riciclato ecco io penso che l'azione individuale deve diventare azione collettiva per poi fare pressioni sulla politica affinché si prendano delle decisioni che siano importanti e che siano radicalmente rivolte ad un mutamento sostanziale del modello di sviluppo e qui mi viene da dire l'esperienza di bilanci di giustizia insegna abbastanza nel senso che sono proprio le due dimensioni della campagna che propone alle famiglie di cambiare i propri consumi e di monitorare il cambiamento quindi non cambiare parole ma di verificare scontrini alla mano che cosa sono riuscito effettivamente a modificare in tutti i capitoli di spesa dagli alimentari alla salute all'abbigliamento ai trasporti ma raccogliendo tutti i dati per dire guardate che è effettivamente possibile e guardate che possiamo farlo diventare un cambiamento di sistema ecco credo che concordo totalmente rispetto al tenere insieme queste due dimensioni e aggiungo l'elemento del mettere in rete chi sia dalla parte del consumo che dalla parte della produzione e possibilmente chi fa sia uno che l'altro effettivamente sta già producendo cambiamento e da questo punto di vista il Trentino non sarà all'avanguardia però sicuramente ci sono tante esperienze e penso alle esperienze dei gruppi di acquisto solidali penso alla Fiera Fa la Cosa Giusta che rappresenta comunque un momento in cui si rende anche molto visibile qual è il mondo dell'economia solidale in Trentino penso all'esperienza dell'emporio che si sta cercando di costruire ecco e qui rilancio abbiamo mantenuto l'impegno dei 45 minuti e su questa domanda del che fare vorrei aprire la discussione il confronto e grazie a tutti